Nome? Ruben. Hello, my name is Troy Corsa. Età? 31. I'm 38. 38. Quanti anni in Superbike? Superbike, 10 anni. Questo è il mio sedicesimo anno. Qual è il ricordo più bello in carriera? Mi sa che non è ancora arrivato. Quando ho vinto il mio primo titolo in Superbike nel 96. E quello più brutto? L'ho già dimenticato. Quando ho perso il titolo Superbike nel 98. Superbike o MotoGP? Televisione MotoGP. E spettacolo Superbike? No, per me SBK. Superbike. BMW, progetto completamente nuovo oggi al secondo anno. Sfida con te stesso o con gli altri? Prima sfida con me stesso. Una sfida per tutti. Nei box, amici o rivali? Sempre rivali. Amici, ma in gara sempre rivali. Chi è il più veloce? Io. Probabilmente io. Di al tuo compagno di squadra che sei andato più forte di lui in gara. Non si dice, lo fai e basta. Lasciamolo dire alla gara. Fai i complimenti al tuo compagno perché è stato più veloce di te in gara. Complimenti. Yeah, for sure. For me, if somebody is better than me. Certo, succede. Non ho mai avuto problemi a farlo. For sure, there's no problem to say congratulations. Se potessi scegliere, quale sarebbe il tuo compagno di squadra ideale? Il mio replica. Penso Kagayama. Penso Kagayama. Sono più bravi quelli che arrivano dalla MotoGP o quelli che vanno in MotoGP? Uguale. For me, I think all riders at the top. Pro o contro elettronica? Indifferente. Contro. Meglio due o quattro cilindri? Quattro. Quattro cilindri. Tempi registrati nei test invernali, hanno valore? Dipende dal punto di vista. I tempi non tanto, ma per lo sviluppo molto. I test per voi non sono andati benissimo. Cosa ti piace di questa BMW? Benissimo dal punto di vista. BMW è fantastica. For me, the last test we've had, we've been unfortunate with some cold weather and not such a perfect condition. Il tempo brutto non ci ha aiutato nei test, ma la moto è già cresciuta abbastanza. La stagione è lunga, vedremo. So I think the results will come with the bike. E cosa cambieresti? Poche cose adesso. For me, right now, abbiamo bisogno di più dati sul setting della moto in gara. E della squadra? Poche cose. Adesso poche cose. Per me, la squadra è già cresciuta, con Tardozzi e il nuovo ingegnere. Per il 2010, qual è l'obiettivo? Solito, vincere. 2010, per me, è essere competitivi. Grazie. Fai un saluto agli amici di MotoTV. Saluto a tutti gli amici di MotoTV. Mi auguro di farvi godere, come al solito, e divertirvi. Un saluto, Ruben Xaus. Ciao. Ciao a tutti, a MotoTV. Grazie per il supporto. Siamo in breve. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.